Superare le criticità del fiume e del mare a pescare e ripristinare il funzionamento del suo depuratore arriva ad una soluzione la questione dello sversamento delle acque reflue in occasione delle grandi piogge e arriva con una soluzione che non richiederà la realizzazione di un nuovo depuratore ma l'inserimento di una struttura impiantistica capace di accogliere e trattare le acque piovane. La locuzione depuratore non è quella proprio che si adatta al lavoro che abbiamo svolto e alle risultanze che abbiamo ottenuto. Noi abbiamo parlato di depuratore come sistema depurativo, tutto ciò che afferisce a quella che è la materia del depuratore. Ora noi in Consiglio Comunale abbiamo portato una delibera nella quale individuiamo delle aree dove completare quelle che sono le opere necessarie all'attuale depuratore per completare o meglio per aumentare la possibilità di trattare le acque, non solo reflue che sono la minima parte ma soprattutto le acque di pioggia poiché la nostra criticità accade puntualmente ad ogni pioggia e cioè il depuratore non è in grado né quello attuale né quello che verrà fuori dai lavori di ampliamento e adeguamento a trattare, a bonificare le acque della pioggia e quindi noi abbiamo bisogno di aumentare ulteriormente la raccolta, la disinfezione, la sgrigliatura delle acque in volumi importanti in modo da rendere la balneazione sicura anche durante il periodo delle piogge. Questo che si deve fare.